Musica Amici di Atisport24, bentrovati in nuova puntata di Due Metri da Pallannuto vista da vicino. Si avvicina il ritorno in vasca della Serie 1 femminile e per parlarne è venuta a trovarci, torna a farci compagnia l'attaccante della SIS Roma e del Sette Rosa, Sofia Giustini. Ciao Sofia, bentornata. Ciao Andrea, grazie mille per l'invito. È sempre un piacere, facciamo però qualcosa di particolare con te, un ponte tra il ciò che è stato e ciò che sarà. E inizio col chiederti, vittoria della Coppa Italia con la SIS Roma, bronzo europeo con la Nazionale dopo il quarto posto ai mondiali. Che 2022 è stato quello di Sofia Giustini? Un 2022? Negli anni precedenti mi hai provato prima, perché due medaglie comunque, una soprattutto di spessore, quella dell'Europa. La mia prima vittoria con la mia squadra è stata, sono emozioni diversissime, con pesi diversi, con lavoro alle spalle un po' più differente e con una squadra completamente diversa. Anzi, completamente no, perché tanti miei compagni sono in nazionale, però comunque sono squadre diverse. E emozioni fortissime, fortissime, gioia, pianti dopo le partite, perché ti rendi conto in quel momento di aver ripagato tutti i sacrifici che durante l'anno fai. Dopo tutti gli allenamenti, le sveglie presto, i doppi, le palestre dopo l'allenamento, gli allenamenti che finisci tardi. E quindi ti senti appagato, ecco. E andiamo al primo successo con il tuo club, la vittoria della Coppa Italia. Quali sono le emozioni che ti legano al trionfo nel trofeo di rigolore? Se ci penso ancora ad oggi, i brividi. Però non vivo dicendo l'anno scorso ho vinto la Coppa Italia. Penso sempre a fare il meglio, a dare il meglio per vincere quest'anno, perché l'anno scorso c'erano altre compagne che ci davano una mano. Quest'anno siamo un'altra squadra, siamo tante giovani. E io ogni anno voglio dimostrare quello che la squadra, che siamo incapaci di dare, che di fare. Quindi il passato ormai lo lascio alle spalle e vado avanti. Certo. Però ti chiedo un ultimo flash sul passato. Se ripensi alla finale vinta contro l'antenore plebiscito Padova, qual è stato il momento in cui hai capito, è fatta, abbiamo vinto, portiamo il trofeo a casa? Eh, fino alla fine comunque eravamo lì, sopra di due, sopra di uno, oddio. Poi quando mancano dieci secondi, hai la palla e senti il pubblico che fa dieci, nove, countdown, iniziano a salirti tutti i brividi. Poi io ero in panchina, vedevo il pubblico, le mie compagnie in acqua e tutto. E quando senti la sirena butti tutto fuori, piangi, ridi e tutto. Festeggi, perché dopo una vittoria così festeggi. Non posso esimermi da farti questa domanda. Marco Capanna nel club, Carlo Silipo in nazionale. Quanto sei fortunata come giocatrice? Tanto, tantissimo. E lo riconosco ogni giorno, guardando Marco ogni giorno e Carlo quando siamo in collegiale. Tantissimo. Andiamo invece all'inizio, alle prime battute di questa nuova stagione. Hai detto, siamo una squadra nuova, una squadra più giovane. Ci sono dentro tante ragazze cresciute nel vivario della SIS. Quale peso assumono nel vostro percorso le due vittorie ottenute in maniera diversa nei gironi preliminari di Champions? Ti dà consapevolezza della squadra in crescita che siamo sempre, dopo ogni partita, dopo ogni allenamento. E questo è il nostro bagaglio che ci stiamo portando dietro, questo nuovo bagaglio che ci stiamo portando dietro da settembre. E quindi ci dà forza, ci fa credere agli altri che la SIS c'è. Noi lo sappiamo di esserci, ma dobbiamo dimostrare agli altri vincendo le partite, ovviamente. Certo. Se io dico che alla SIS manca un grande successo in trasferta per ottenere la definitiva consacrazione, che cosa mi rispondi? Come si vince in casa siamo pronti a vincere anche in trasferta, quindi non è un ostacolo che ci si pone davanti durante questo percorso. Ovviamente giocare in trasferta che in casa molte volte è un po' più complicato, però se sei squadra lo sei sia in casa che fuori, se hai la cazzimma come si dice in napoletano di vincere in casa ce l'hai assolutamente anche fuori, anzi il doppio fuori. E sì, anche perché poi devi lottare pure contro il pubblico che sostiene la squadra avversaria, no? Esatto, esatto. L'Europa riprenderà con una sfida di quelle a 5 stelle, perché pur vincendo il girone avete pescato forse una delle tue peggiori seconde, il Sabadell. Se io dico che negli occhi delle giocatrici dell'Assist c'è un qualcosa di nuovo che vi porterà a giocare faccia a faccia anche contro una delle due corazzate, perché metto sullo stesso piano Sabadell e Olimpia Costa, tu che cosa dici? Condividi il mio pensiero? Assolutamente, sicuramente saranno due partite belle toste. Belle toste, confrontiamo comunque contro l'altra squadra che praticamente è tutta la nazionale spagnola, perché poche giocatrici giocano ad altre parti. Però sarà ancora più bello vincerci e andare lì e... Le intenzioni sono già chiare, insomma. Assolutamente, se no come facciamo a vincere la Coppa dei Campioni? E chiudiamo con un'ultima battuta, si riparte dalla trasferta di Bologna che sarà l'aperitivo per quello che poi è il big match della settimana successiva, perché al Babbel arriverà l'Equipe Orizzonte nello scontro diretto. Quanto è importante rimettere subito il piede sull'acceleratore e partire a 100 all'ora per dire noi abbiamo fatto pausa come gli altri ma siamo ancora più pronti di prima? Tanto. Tanto. Tanto e serve più delle altre squadre per dimostrare. E sappiamo che possiamo dare veramente tantissimo e possiamo dimostrare di essere la prima squadra, abbiamo questa occasione, finendo queste due partite possiamo essere prima in classifica e chiudere questa girone di andata in prima classifica e sicuramente non ce lo toglierà nessuno al primo posto. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata, è stato come sempre un piacere dialogare con Sofia Giustini, io la ringrazio per essere intervenuta e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Sofia, grazie mille. Grazie a te Andrea, ciao.